Benvenuti nel mondo degli orologi Alang & Son. Alang & Son è un'azienda tedesca di orologi di lusso con una storia lunga quasi 200 anni. Fondata nel 1845 da Ferdinand Adolf Lang e i suoi figli Richard e DeMille, l'azienda ha sempre avuto come obiettivo la produzione di orologi di alta qualità, caratterizzati da un design elegante e da meccanismi esclusivi. Oggi Alang & Son produce orologi da polso in oro o platino, con movimenti esclusivi, sviluppati internamente, montati e decorati a mano con grande attenzione ai dettagli. Grazie ai suoi 62 calibri di manifattura, l'azienda ha raggiunto una posizione di primo piano tra le più grandi marche di orologi del mondo. Ma il vero segreto di Alang & Son è il suo savoir-faire, la capacità di creare orologi che siano allo stesso tempo esteticamente belli e tecnologicamente avanzati. Ogni orologio è frutto di un lavoro artigianale, con una grande attenzione ai dettagli, alla precisione e all'affidabilità. Uno dei modelli più famosi di Alang & Son è sicuramente il Lang 1, un orologio da polso caratterizzato dal suo design elegante e distintivo, con la sua grande data posizionata al di sopra dell'asse centrale dell'orologio. Ma l'azienda produce anche molti altri modelli di orologi, tutti caratterizzati dalla stessa attenzione ai dettagli e alla qualità. Gli orologi Alang & Son non sono solo oggetti di lusso, ma veri e propri investimenti nel tempo. Grazie alla loro qualità e alla loro esclusività, gli orologi Alang & Son mantengono il loro valore nel tempo, diventando oggetti di collezione e ambiti dai collezionisti di tutto il mondo. In conclusione, se siete alla ricerca di un orologio di lusso che sia allo stesso tempo un investimento nel tempo, gli orologi Alang & Son sono sicuramente la scelta giusta. Grazie alla loro qualità e alla loro esclusività, gli orologi Alang & Son sono uno dei marchi di orologi più famosi al mondo, e rappresentano il meglio della tradizione orologera tedesca.